Luca continua a parlare ma lasciamo parlare con Luca lasciamo stare perché c'è stata maleducazione e molto altro quindi lasciamo stare come ha fatto superare diverse difficoltà il fatto dell'ingiustizia io credo che tutto torna e quindi tutto alla fine se tu osservi si vede la verità capito la verità viene a galla quindi io ho pensato a quello principalmente in modo che questo non si creasse per l'anno prossimo per settembre possiamo dire una cosa che fare la parte della sottona fa guadagnare in notorietà sedute e abbandonati altri poi abbiamo fatto in modo che questo non si creasse che dare un buon giorno ciao 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 ciao